Due gare andate deserte per l'aggiudicazione del servizio di raccolta rifiuti porte a porte e il comune di Rosarna è stato costretto ad indire un bando con affidamento diretto per il servizio rifiuti in modalità indifferenziata. Un intervento tampone voluto dal sindaco Giuseppe Ità per evitare che la città cada nel caos restando scoperta sulla raccolta dei rifiuti. La determina voluta dall'amministrazione si è resa necessaria in quanto viene a scadere il contratto provvisorio con l'azienda Locri d'Ambiente che da circa un anno sta svolgendo il lavoro di raccolta dei rifiuti a Rosarno. Il 30 settembre scade infatti l'affidamento del servizio di raccolta indifferenziata e in attesa che si completi l'iter attivato dalla SUAP di Reggio Calabria per l'aggiudicazione dell'appalto quinquennale da 6 milioni di euro, il comune è stato costretto a ricorrere ai ripari con un'altra gara diretta. Sono state due le gare d'appalto, come si diceva poc'anzi, andate a vuoto e per non correre il rischio di lasciare la cittadina sepolta dai rifiuti il sindaco IDA ha dovuto mettere in moto una procedura d'urgenza impegnando una somma di 150 mila euro per l'operazione. L'intervento di raccolta, trasporto negli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati comprese attività di pulizia e igiene urbana avrà una durata di tre mesi, il tempo necessario per riattivare nuovamente la gara di rilevanza comunitaria, sperando che questa volta per la terza volta non vada a vuoto. Per affidare per cinque anni la raccolta differenziata e lanciare il porta a porta che negli anni passati nella città Medmea non ha avuto fortuna. C'è da dire anche che 6 milioni e mezzo di euro sono un bel gruzzolo e molto appetibile, ma due gare andate deserte regolarmente eseguite con nessuna società nazionale o europea che si è presentata per raccogliere l'eventuale progetto fa emergere qualche sospetto e qualche dubbio abbastanza inquietante in una città, quella di Rosarno che vive quotidianamente il problema della sicurezza e della legalità e lo spadroneggiare dei clan dranghetisti.